Ciao ragazze e bentornate su Mondo Cosmetic Oggi facciamo un video dedicato alla rubrica Scopriamo insieme i prodotti della Euroshie Quindi oggi vi parlo brevemente Ovviamente sapete che non faccio recensione diretta del prodotto Ma parlo del prodotto per farvelo scoprire Oggi in particolare parliamo di questo prodotto Che è lo struccante rapido occhi E' uno struccante occhi che va bene anche per i trucchi waterproof Ed è appunto un bifassico Perché vedete che c'ha Perdonatemi che è quasi finito ma è il mio quello che utilizzo io Quindi... ma già ho la scorta Quindi insomma ha le due soluzioni che si separano Infatti va agitato prima di essere utilizzato Poi va applicato su un dischetto di cotone Tenuto in posa un pochino sull'occhio Giusto il tempo di dare appunto Giusto il tempo di dare modo al prodotto di agire sul trucco E poi andare a tirarlo via Poi vi do anche insomma un info su come si utilizzano questo tipo di prodotti Allora, nello specifico Questo è un prodotto che ha come principio attivo l'acqua di fiordaliso Che è coltivata nella case lì Che praticamente per chi non lo sapesse sono le coltivazioni biologiche Le coltivazioni biologiche e la Yves Rocher fanno parte appunto della case lì Questo grande posto meraviglioso pieno di piante Diciamo la casa della Yves Rocher E appunto questo è un estratto di fiordaliso coltivato appunto dalla coltivazione biologica in Francia e le case lì Può essere applicato di mattina e di sera Non necessita di risciacquo Quindi può essere tranquillamente utilizzato E poi basta insomma È vero che io lo utilizzo Che poi dopo comunque faccio tutti gli step dello struccaggio E poi dopo quindi lago anche il viso Però non brucia gli occhi Per cui insomma non è necessario sciacquarli Perché l'acqua di fiordaliso? Perché l'acqua di fiordaliso ha un potere lentivo Per cui proprio per il motivo che vi ho appena detto Non brucia gli occhi E non dà fastidio agli occhi Allora come vi dicevo Allora il prezzo da Diciamo il prezzo di questo prodotto è di 4,95 euro Si trova spesso in album a 3,95 euro E non vi nascondo che quando è in offerta a 3,95 Le clienti impazziscono perché chi lo utilizza poi difficilmente lo lascia Almeno questa è la mia opinione da consumatrice Ma anche da venditrice Perché tutte le mie clienti lo acquistano continuamente Perché ormai insomma non ne possono fare più a meno E so che di questo ne ha fatto una recensione anche Alice Leicodri Se non ricordo male E l'ha fatto però tramite non qui su youtube Ma se non ricordo male tramite la sua pagina facebook Quindi se dovessi trovare il link del video magari ve lo metto Non ve lo assicuro perché ricordo di averlo visto tempo fa Le lo promuoveva, le piaceva E se lo trovo ve lo metto Altrimenti insomma Ricordo insomma questo Come vi dicevo è un prodotto questo che è veramente efficace per lo struccaggio Perché ne basta un po' appunto imbevuto su un dischetto di cotone E quello che vi volevo consigliare in generale su tutti i prodotti per struccare gli occhi In particolare vi parlo di questo ovviamente E che una volta che avete applicato il dischetto di cotone con lo struccante Insomma imbevuto di struccante Va applicato un po' sull'occhio Va tenuto in posa qualche istante Il tempo di far agire il prodotto E poi senza tirare e fare questi movimenti Perché altrimenti si stressa non solo l'occhio ma anche la ciglia Si fa questo movimento dall'alto verso il basso E verso l'esterno Quindi prima si tira verso il basso E poi verso l'esterno Questo perché il prodotto tira via dalla ciglia Quindi segue proprio la forma della ciglia E poi si tira per non lasciare l'alone sotto l'occhio Questo lo dico in generale perché spesso vedo parecchie persone Che quando usano gli struccanti lo usano così E quindi in realtà uno si va a irritare l'occhio Perché comunque entra non solo il prodotto Ma entra anche il trucco all'interno dell'occhio Per cui ovviamente il trucco negli occhi così come qualsiasi altra cosa che entra nell'occhio Può dare fastidio e creare un po' di lacrimazione E quindi dare fastidio appunto E poi anche perché comunque questo sfregare l'occhio indebolisce la ciglia Quindi invece questo movimento molto semplice di far agire il prodotto Dargli il tempo di agire e di sciogliere il trucco Poi andare verso il basso e verso l'esterno Come vi dicevo è un prodotto che va bene anche per il trucco waterproof E niente vediamo se ho dimenticato qualcosa Non credo di aver dimenticato niente Voi sapete che ho sempre i miei appuntini E niente questo era Quindi niente spero che questo vi sia un prodotto che vi possa interessare Come tutti i prodotti dell'aiproscino contiene componenti animali Un'alta percentuale di potere vegetale Questo appunto vi ripeto è un prodotto che viene da coltivazione biologica Quindi l'estratto di fiordaliso L'acqua di fiordaliso viene da coltivazione biologica della caselli E niente spero di esservi stata utile E ah vi dico quanto ce n'è all'interno del flaconcino Non so se si legge ma comunque ve lo dico io Sono 125 ml E dura 12 mesi dall'apertura E veramente vi ripeto ne basta pochissimo Quindi niente spero di avervi detto tutto Spero di essere stata esaustiva Qualora non lo fossi stata Lasciatemi un commento Fatemi tutte le domande che volete E niente come al solito voi sapete che io sono capogruppo dell'Aiproscicchi Chi di voi ha desiderio di entrare in questo meraviglioso mondo Che ormai fa parte della mia vita e della mia famiglia Può contattarmi e io ovviamente Laddove siete interessate a intraprendere questo lavoro O semplicemente siete delle clienti abituali Che vuole acquistare con lo sconto personale Vi potete contattare Se avete voglia di iniziare il lavoro vi manderò di materiale gratuito ovviamente Se invece volete acquistare Semplicemente se siete in Napoli e volete acquistare da me Sono a disposizione se invece siete comunque di Napoli o di qualunque altra zona Ovviamente basta che mi contattate Io sarò felicissima di darvi tutte le spiegazioni e le info che desiderate Sia per lavorare con noi che per diventare cliente privilegiata Cioè significa che posso ottenere dello sconto personale Niente vi lascio tutti i riferimenti e i contatti nell'info box Se avete bisogno di qualcosa sapete insomma basta che mi contattate Vi mando un bacio e spero che vi sia stata utile quest'altra puntata di rubrica Scopriamo insieme i prodotti della E-Crochet Niente vi mando un bacio Ciao ragazze